Le lamentele sono arrivate da più parti a giusta ragione. La città, la nostra, come molte altre nel circondario, è stata invasa da blatte e scarafaggi che hanno scatenato le ire dei cittadini. Da Palazzo Gentile hanno comunicato che prenderà avvio lunedì 6 luglio l'annuale piano di disinfestazione programmato su tutto il territorio comunale dal servizio per i lavori pubblici. Il piano comprende la derattizzazione, la deblattizzazione e la disinfestazione contro zanzare e insetti alati nelle aree pubbliche del centro urbano e delle frazioni. La deblattizzazione verrà effettuata dal 6 al 10 luglio dall'azienda Chemipool Italia di Taranto. Gli interventi saranno previsti per i mesi di luglio, agosto e settembre in diverse giornate. Il comune in una nota poi informa che per le aree private, abitazioni, cortili, aree verdi condominali, pozzetti di pertinenza delle abitazioni, sono tenute ad intervenire autonomamente i diretti interessati, proprietari o titolari delle aree.